Ora è ufficiale, Giuseppe Maggi è il nuovo allenatore del Gubbio, confermato il preparatore atletico Skaia, ripescaggi eletto Tommaso Miele come commissario di Lega Pro, Perugia ufficiale volta, ora la priorità è Ardemagni. Il Gualdo Casacastalda ufficializza il direttore sportivo Gagliardini e l'allenatore Emanuelli, volley serie B, alto Tevere prima nel ranking per ripescaggio, speed motor Gubbio, Macario quinto alla Trento Bondone. Gentili telespettatori di TRG, benvenuti all'appuntamento con il TG dedicato allo sport. Ora è ufficiale, Giuseppe Maggi è il nuovo allenatore del Gubbio Calcio. Il tecnico pesarese, eredoci dal trionfo in serie D con la maceratese, ha firmato nel pomeriggio odierno il contratto che lo legherà per la prossima stagione alla società Rosso Blu. Maggi, che sarà ufficialmente presentato nel fine settimana, avrà al suo fianco come preparatore atletico il confermato Alessandro Scaia e con ogni probabilità anche il preparatore dei portieri Giovanni Vecchini, mentre come vice possibile l'arrivo di Simone Cicare, già il suo secondo alla maceratese. Ora il DS Pannacci comincerà ad allestire la squadra per la prossima stagione con l'idea di costruire la rosa per la serie D, lasciando vacanti due o tre taselli in caso di ritorno in terza serie. Per quanto riguarda i fuori quota, che dovranno essere quattro necessariamente in campo, fa ripuntati sul portiere Volpe, classe 1996 di proprietà della Juventus, nell'ultima stagione alla Correggese. Per quanto riguarda i giocatori più esperti, continua la corte al difensore Marini, al centrocampista Croce e all'esterno d'attacco Ferri Marini, tutti in uscita dalla maceratese. Tronovano ufficialmente squadra in Lega Pro, intanto i due migliori elementi dell'ultima sfortunata stagione a Gubina. Il portiere Gianna Rilli si lega alla Pistoiese, mentre in centrocampista Loviso firma un biennale con l'Alessandria. Primo fondamentale step verso la rielezione di nuovi vertici in Lega Pro dopo le dimissioni dell'ex presidente Macalli nel Consiglio federale, andato in scena ieri, è stato votato, scusate, all'unanimità, come commissario straordinario della Lega Pro, il magistrato della Corte dei Conti Tommaso Miele. Il suo compito sarà quello di traghettare la Lega Pro alle elezioni di nuovo presidente entro il 31 ottobre. In agenda anche l'ipotesi di una riduzione dei tre gironi da 20 a 18 o 16 squadre, oltre che la riduzione parziale totale della tassa a fondo per tutto per i ripescaggi, che ad oggi ammonta 500 mila euro e che interessa da vicino il gubbio calcio. Secondo intenso per il nuovo Perugia di mister Bisoli, che dopo l'attaccante di Carmine ufficializza anche l'acquisizione a titolo definitivo del difensore classe 1987 Massimo Volta, che ha firmato un contratto biennale. Ex Foligno Vicenza Cesena, con cui ottiene la promozione in A, proprio con Bisoli in panchina, fa il suo esordio in Serie A con la maglia della Sampdoria, prima di tornare nuovamente a Cesena, sino alla stagione appena conclusa. Ora il Grifo stringe con la Fiorentina per il portiere Rosati ed il centrocampista Sarifu, così come con la Juventus per l'esterno destro Spinazzola nell'ultima annata a Vicenza. L'obiettivo primario resta però la conferma del centravanti Ardemagni con la trattativa con l'Atalanta che potrebbe risolversi nelle prossime ore. Il Gualdo Casa Castalda, dopo aver per lunghe settimane paventato la mancata iscrizione in Serie D, riparte di slancio annunciando le prime due figure tecniche, ambedue provenienti dalle marche, dalle quali ripartire per l'annata 2015-2016. Il nuovo direttore sportivo è Maurizio Gagliardini, mentre come nuovo allenatore è stato scelto Omar Manuelli. Gagliardini è uno degli artefici principali dell'incredibile cavalcata della marciera tese, mentre Manuelli è reduci d'annate trascorse in settori giovanili di spessore come Rimini e lo stesso Fano. L'attuale DS Moroni andrà ad occupare il ruolo di direttore tecnico, mentre Scani resta direttore generale del club Gualdese. Gagliardini e Emanuele verranno presentati in conferenza stampa domani alle 18.30 presso la sala stampa dello Stadio Luzzi. E passiamo ora al volley. Dopo la scadenza dei termini per l'accessione dei diritti sportivi, sono state pubblicate dalla Federazione Italiana Pallavolo le liste delle società sportive partecipanti alla serie B1-B2, sia maschile che femminile. In B1 maschile sono 37 le squadre in organico con 5 posti disponibili e l'Alto Tevere Pallavolo è la prima in ordine di ranking per una possibile integrazione. B2 maschile al completo con 112 team al via e la gradi cartoedit Città di Castello e Quinta nella gradatoria ripescaggio. In serie B2 femminile si affronteranno la rinnovata New Font Mori Gubbio di Coach Berrettoni, School Volley Perugia, Galletti Ponte Vallecepi, Lucky Wind Trevi, Floreale Perugia e Todi Volley. La scadenza dell'iscrizione è fissata per lunedì 13 luglio. Dopo il 17 luglio le società che non risulteranno iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato nazionale. Entro il 21 luglio si procederà agli eventuali ripescaggi. Dopo il 26 luglio saranno pubblicati i calendari. Motori, bilancio positivo per la Speed Motor di Gubbio, la 65esima edizione della cronoscalata automobilistica Trento Bondone, prova di campionato sia italiano che europeo di velocità in montagna. Ottima performance per Pari De Macario che ha colto un brillante quinto posto assoluto. Piazzamento fatto registrare peraltro anche nel corso dell'unica sessione di prove ufficiali disputate causa maltempo. La scuderia Ugubina non aguanta il trofeo per scuderia che va al V-Motor Sport ma hanno i loro buoni motivi per sorridere. Anche gli altri due portacolori della Speed Motor che correvano in casa. Il campione italiano in carica della E2M Adolfo Bottura si è piazzato nono assoluto e anche Giancarlo Graziosi ha colto il terzo posto nella classe 2000 della E2M. Prossimo appuntamento con il tricolore della montagna. Il 18 e 19 di luglio a Rieti per l'altra lunga crono italiana quella che conduce al Terminillo. E chiudiamo con il podismo. In arrivo la non edizione della corsa tra i Monti De Gualdo organizzata dall'Atletica Taino con il patrocinio del comune di Gualdo Tadino che si svolgerà domenica 12 luglio sulla Val Sorda di Gualdo Tadino. Il ritrovo è previsto per le ore 8 e l'evento consiste in una corsa competitiva in montagna di 10,2 km che prenderà il via alle 9.30 per una passeggiata ecologica non competitiva aperta a tutti sempre di 10,2 km che partirà invece alle 8.30. Una corsa davvero unica in mezzo ai boschi e ai prati della Val Sorda al confine tra Umbria e Marche con un suggestivo paesaggio nei pressi dell'Eremo di Serra Santa a quasi 1300 metri sul livello del mare. Bene con questo è tutto per quello che riguarda l'informazione sportiva che tornerà domani alla stessa ora. Buona serata.